Bentornati su MyFootballGersy. Oggi vediamo un'altra anticipazione, mi raccomando non ancora ufficiale, per la prossima stagione, la 2023-2024, la prima maglia della Juventus in edizione FAN. Grazie a tutti. Questa maglia è molto bella, ero indeciso, alla fine ho deciso di dare 4 stelle, ditemi voi cosa ne pensate. Molto bello il tessuto, lucido, e questa striscia che ricorda un po', diciamo così, la sfumatura delle strisce della zebra. Qui in alto trovate come al solito il costo, non aggiungo altro, potete vedere da soli che è un costo veramente molto basso, che tra l'altro include anche le spese di spedizione. In descrizione qua sotto trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia, andate a vedere perché c'è anche un link per ottenere un coupon da 5 dollari, quindi il costo diminuisce ulteriormente. Ora vi lascio la parte finale, se il video vi è piaciuto, se il canale ha dei contenuti che mi interessano, mi raccomando lasciate un grande like, ma soprattutto iscrivetevi al canale. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media della versione Fan.